Un percorso formativo di eccellenza post diploma, altamente professionalizzante. L'obiettivo? Formare nuove figure professionali capaci di accompagnare i territori urbani verso le sfide della transizione energetica. Si chiama Energy Manager 23, il biennio ad alta specializzazione tecnica e tecnologica rivolto agli Under 35 che Fondazione ITS Energia e Ambiente presenta per le annualità 2023-2025 a Firenze in collaborazione con alcune delle più importanti realtà produttive tra cui Alia Multi Utili di Toscana, azienda partner dell'istituto e sostenitrice del progetto e gruppo Simtel. Il messaggio che noi diamo ai ragazzi è quello di valutare e di iscriversi al corso di ITS perché c'è il mondo del lavoro che li aspetta, ci sono iniziative come quelle della Multi Utility che rappresentano un perno centrale della transizione energetica ed ecologica, che hanno bisogno di nuove professionalità, quindi per noi è fondamentale che ci possano essere molti iscritti perché ci saranno tante opportunità di lavoro e di crescita nel territorio toscano. 1800 ore totali, 4 semestri, lezioni in aula, attività di laboratorio, stage in Italia e all'estero e poi il conseguimento, alla fine del biennio, di una qualifica ministeriale di diploma di tecnico superiore riconosciuta anche in abito europeo. Quest'anno su Firenze parte il corso che è destinato alla creazione della figura professionale del tecnico della comunità energetica, quindi sempre un tecnico dell'efficienza energetica ma con una capacità specifica e una competenza specifica sulle comunità energetiche che stanno nascendo per decreto in tutta Italia. Quindi è già un anno e mezzo che stiamo lavorando in alcune forme di partenariato pubblico privato e c'è una carenza di questa figura professionale. Questa come tante altre sulla parte TLC, quindi smart city e impiantistica speciale.